Free Social Market è un'applicazione che permette di acquistare prodotti a prezzi super vantaggiosi con in cambio l'obbligo di recensirli e pubblicizzarli sui social network come Facebook, Twitter e Instagram. Un'idea interessante per risparmiare sugli acquisti, ma fare la spesa ad oggi pesa ancora sul bilancio familiare, sì o no? Sì, pesa perché bisogna mangiare, no? Certo. L'alimentazione, almeno cercare di mantenere un'alimentazione sana perché se no, poi specialmente se in una famiglia ci sono più persone. Lei dove fa la spesa qua a Boghera? Allora, io mi trovo bene anche nei supermercati, quindi queste catene low cost costano meno rispetto alle altre? Poi posso scegliere, poi chiaro se mi serve qualcosa di diverso vado anche in un altro supermercato. Catene come queste peccano di qualità oppure no? Tante cose sono valide, certo bisogna scegliere, guardarci, guardare un po'. E poi chiaramente se uno non si prova, almeno uno prova una volta una cosa e poi dopo se si trova bene va avanti a prenderla. Invece al mercato qui in piazza no? Sì, sì, anche al mercato si compra bene, io vengo, sì sì vengo. Consiglio suo è catene a basso costo come quella che ha citato e il mercato? Sì, chiaramente. Sì, pesa ancora. Lei quando fa la spesa preferisce tenere in considerazione a questo punto la qualità oppure il risparmio? La qualità. Come mai? Preferisco guardare e avere un prodotto di qualità. Qui a Voghera, nello specifico, dov'è che fa la spesa? Se posso in un negozio al dettaglio oppure nel supermercato. Come mai preferisce il negozio al dettaglio? Contatto umano e secondo me la qualità è superiore. Invece il mercato, quello che fanno in piazza per dire lo frequenta? Secondo me no, costa di più che il negozio. Risparmiare invece secondo me no, si risparmia di più nel negozio. Secondo me sì, tanto, tantissimo, anche perché comunque in base agli stipendi che uno prende, io sono una persona che non è che comunque è un lavoro fisso, diciamo che sono un po' sul precario, no? Per cui è molto difficile, uno deve stare attento con la spende, io guardo i centesimi. E tu dove fai la spesa? Ecco io vado qua in centro, al Gulliver, no, lì per centri commerciali grossi non ci vado. Frequenti il mercato qua a Voghera? Eh sì, lo frequento, però difficilmente vado a comprare qualcosa, anche perché i prezzi più o meno sono uguali adesso, non è cambiato nulla. Tu preferisci guardare la qualità del prodotto oppure pensare al risparmio? Io preferisco guardare al risparmio che la qualità del prodotto, ma in tutti i generi, anche vestiti, credimi, non vado più a comprare le cose, diciamo che spendo 100 euro. Grazie a tutti.